Vuoi dimagrire davvero in poco tempo? Ecco la soluzione per dimagrire naturalmente in 14 giorni! Il rivoluzionario tessuto tecno dimagrante per dimagrire 4 volte di più! Riceverai la fascia per la pancia con azione brucia grasso! Il top e i pantaloni potentissimi per un dimagrimento totale! E in omaggio avrai la super crema tedesca che potenzia il microcircolo! L'indosso di giorno in casa e in giro, li uso da 20 giorni e ho perso 4 kg! Sono veramente contentissima! Vuoi dimagrire davvero in poco tempo? Preparati al super dimagrimento! Risultati entusiasmanti già dopo 14 giorni! Perdi due taglie perché sudi 4 volte di più col nuovo tessuto tecno dimagrante! Riceverai la fascia per la pancia con azione brucia grasso! Il top e i pantaloni potentissimi per un dimagrimento totale! E in omaggio avrai la super crema tedesca che potenzia il microcircolo! Fai subito il tuo ordine!